e facciamo da Brescello alla Docco Romolo non posso chiedere, avete visto? in modo che voi siete soddisfatti perché io quando dico una cosa è quella non devo chiedere e mangiarlo madonna me questo è il cavallo che avevo io nel frigorifero e voi sapete che la carne di cavallo essendo che è rossa quando da un giorno all'altro poi diventa nera ma non è che è nera, è rossa volevo farlo a cuo' di prez a ricrutto e mangiare il rai madonna in compagnia con cristini belli e genuini come noi alla Doc madonna me a strastra di cruza strastra montata a rete come avevo detto la volta che la carne cruda ma fa scald e non va bene sapete perché mi sto mangiando? perché prima era una giornata fredda stamattina fredda sole e freddo e poi quando fa male la kimpi a mangiare ma perché a me o è caldo o fa scaldi o fa sfredda ma ho pensato che la Jessica sono sentito che ti fai niente erano i corvi stamattina voglio calasad mangiare l'alice a strastra di cruza e strastra mangiare l'alice un certo speciale a tutti quanti